Bunyon Excellence to grow together Nell'odierno ambito economico e imprenditoriale, i beni immateriali, brevetti, marchi, design, domain names, non possono più essere considerati solo come diritti esclusivi da tutelare. Erroneamente, questi beni sono talvolta percepiti come investimenti non remunerativi. Al contrario, sono strumenti strategici essenziali per la creazione di risorse per le imprese, spesso determinanti per la loro crescita e per la loro capitalizzazione. Da oltre 40 anni, Bunyon è protagonista nel settore dell'intellectual property. Grazie ad una indiscussa competenza ed esperienza, Bunyon favorisce l'utilizzo di questi beni a vantaggio delle grandi e piccole imprese. Bunyon è da sempre vicina ai propri clienti, forte di una presenza capillare sul territorio nazionale, senza però rinunciare alla propria vocazione all'internazionalizzazione. Il primo obiettivo di Bunyon, verso le aziende e clienti, è far ottenere dei profitti dalla gestione dei loro beni immateriali. I risultati da noi ottenuti fino ad oggi a favore dei nostri clienti, nei più svariati settori, dalla meccanica alla chimica, all'abbigliamento, all'alimentare, all'elettronica e la loro soddisfazione, sono la dimostrazione più valida che la metodologia del nostro lavoro è vincente. Una metodologia in evoluzione, ma sempre in sintonia con le trasformazioni continue del mondo dell'impresa. È essenziale per noi di Bunyon evidenziare ai nostri clienti e partner, in modo concreto e diretto, le nuove opportunità di business che scaturiscono da una corretta gestione delle risorse dell'intellectual property. Affianchiamo in tutto le aziende e clienti nella loro fase di crescita, perché anche noi si possa crescere insieme a loro. L'intellectual property è un ambito sempre più articolato e multidisciplinare che richiede, per una corretta e moderna gestione, molte competenze specialistiche. Esse devono però riuscire a interconnettersi tra loro utilizzando un codice di dialogo comune. Nel business d'oggi, le informazioni indispensabili per la gestione redditizia dei beni di proprietà industriale e intellettuale non possono essere affidate ad un solo professionista. The best solist will never be an orchestra Noi di Bunyon operiamo come un'orchestra in cui ogni professionista sa cogliere, individuale, tutelare e valorizzare ogni singolo aspetto dell'intellectual property e predisporlo in sintonia e in sinergia facendo esprimere al meglio gli altri componenti. Da questa capacità interpretativa comune, che è la nostra eccellenza, scaturisce una composizione unica, un risultato complesso che condividiamo con i nostri clienti senza affidarci esclusivamente a virtuosismi da solisti, affascinanti ma limitativi rispetto ad un'unica, grande sinfonia d'orchestra. Bisogna S pinita Excellence to grew together S Series Piano E70 S biblioteca S biblioteca S biblioteca Grazie a tutti.